Divertiti Daniele, divertiti, divertiti, per iniziare facciamo un bellissimo proseguo Una rustica, pinzane e acciughe La gente quando la mangia non ha sete E' l'ora di una buonissima pizza e la gustiamo oggi a Pollina Qual è il vostro gusto di pizza preferito? Lasciatelo scritto nei commenti La pizza paesana Con mortadella, burrata, pachino e pistaccio Ed ecco che ne arriva un'altra Questa è una rustica senza lattosio Ho capito Ehi Daniele, senza olive ci sono salendo Eccola, grazie mille Qual è la sua pizza preferita? Io mangio la pizza tonno e cipolla con melanzane fritto Tonno e cipolla e melanzane fritto, la sua? Tonno e cipolla, mi piace da morire Qua comunque facciamo delle pizze ottime La gente quando la mangia non ha sete Fanno i complimenti perché è tutto al naturale Grazie al proprietario che prepara E anche lui che prepara una buona pasta E niente, è un bellissimo locale Un posto stupendo, d'estate è una favola Sopra l'ambiteatro E buonasera a tutti da Pollina Ed ecco che arriva un'altra pizza Qui cosa abbiamo? Capicciosa Capicciosa E qui invece? Una rustica fritto di melanzane e acciughe Ed auguriamo una buona cena a tutti Buona cena Per gli amici di bella Sicilia Dopo una bella cena Una bella pizza Un bel dolce ci vuole Piccolino ma ci vuole E buonasera a tutti da Pollina Ma in quale luogo da sogno ci troviamo in questo momento? Buonasera a tutti Siamo a Pollina, provincia di Palermo Qua ci troviamo nel teatro Piedra Rosa E' un bellissimo posto Panoramico E' bello perché qua Fanno tanti eventi Rappresentazioni teatrali Concerti Teatro Tutte le varie manifestazioni di cultura Tutto un ambiente molto naturale Originale Sembra di tornare indietro nel tempo Di vivere in un'altra epoca Sì perché è incassonato nella roccia Questa è la torre E' incassonato nella roccia Perciò i posti a sedere sono Guardi Incastonati fra la roccia Ed è bellissimo Perché tutto è naturale Tutto in pietra Veramente è un teatro bellissimo Ed il giorno i panoramiche È possibile vedere da qui? Certamente di giorno fa più effetto Vedere tutte le madonie Il golfo di Cefaru Qua si arriva a vedere Ad esempio fino a Porticello Si arriva a vedere Ustica Le isole Olie E c'è un panorama a 360 gradi Che magnifico di qua Bellissimo E salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia Un caro saluto da Pollina Venite a Pollina Che è veramente un bel luogo Veramente rilassante E ricco di tradizioni Vi consiglio di venirla a visitare Merita Merita tanto Grazie Una buona serata a tutti Al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti